Il prossimo 31 marzo non sarà una data come un'altra per il comune alla città di Chieti e corsa contro il tempo per evitare il dissesto con la conseguenza di un commissario che gestirà la normale amministrazione e affiancherà il sindaco alla concreta possibilità di un ulteriore aumento delle tasse già alte per i cittadini. Si viaggia su due fronti, i giudici dovranno decidere su teatro e servizi la Corte dei Conti sul piano di riequilibrio del comune. Il sindaco Diego Ferrari è comunque fiducioso e dice abbiamo fatto tutto il possibile. I destini sia del comune che della società teatro e servizi si incroceranno e si chiarificheranno a fine mese, il 31 marzo o poco più di questa data. Per quanto riguarda teatro e servizi la cui gestione come liquidatore l'abbiamo affidata all'ottimo professionista dottor Luca Di Orio che ha redatto delle linee guida per quanto riguarda il piano concordatario che a fine marzo consegnerà ai giudici del tribunale. Invece per ciò che concerne il comune c'è stato un lavoro enorme da parte del settore finanziario affinché le linee guida di cui parlavo redatte dal dottor Luca Di Orio combaciassero più o meno perfettamente con le nostre affinché la richiesta di concessione del piano di riequilibrio alla Corte dei Conti da parte del comune venisse e fosse accolta con favore. Un conto alla rovescia che preoccupa ma lascia accesa la speranza nel sindaco stesso altrimenti... Se la Corte dei Conti non accettasse il nostro piano di riequilibrio andremmo in default e assisteremmo al dissesto economico finanziario del comune con conseguenze abbastanza facilmente deducibili e prevedibili quali il commissariamento della stessa amministrazione, quindi le tasse portate al massimo e la gestione della sola amministrazione ordinaria. Una situazione finanziaria al comune di Chieti che si trascina da tempo? Se la responsabilità di questa situazione economica viene da lontano mi avvalgo della facoltà di non rispondere.